Ciao a tutti, oggi è quella tipica giornata che tutti chiamereste giornata di merda Infatti non sapevo come comincia questo video, però lo comincio così, dicendovi che è una giornata di merda In pratica adesso mi si è rotto il copricostume che ho usato per fare la cosa di cui vi sto per andare a parlare Poi è entrata un'ape in veranda e non so che fine abbia fatto ma sicuramente sta dentro casa e fatalità in camera mia Infatti mi sento tipo che mi cammina tutto addosso Poi mi si è spaccata una bottiglia di aceto di riso sui piedi, quindi tutti i cocci per terra Ho dovuto pulire tutto, la mia camera è totalmente a suo quadro perché per scegliere cosa mettere per la sfilata, per il concorso Ci ho messo un bel po' e il mio cane continua ad abbagliare ogni volta che io provo a fare un video Però detto ciò voglio parlarvi in breve di quello che voglio fare, ovvero un concorso di bellezza Allora, a parte io noto la mia non curanza, nel senso non faccio video da così tanto tempo, non penso a me stessa da così tanto tempo Che la mia parete fa schifo Cioè, sono cascata almeno 30 foto e non le ho più riappiccicate Qua c'è scotch, scotch, scotch Qua non lo so, ci si è ammazzato qualcuno, penso qualcuno ci ha dato una capocciata Insomma, fa tutto totalmente schifo Poi l'altro giorno mi sono svegliata di punto in bianco e ho detto Cazzo, ma io voglio fare qualcosa di bello E allora mi sono iscritta a questo concorso di bellezza Chiamato Miss Curvissima Io l'ho conosciuto grazie a Martina La ragazza che io ho intervistato riguardo la bulimia e il binge eating disorder Lei è stata eletta Miss Curvissima Ed io ho pensato di partecipare in quanto sono una taglia 44 e non mi sento così brutta Anche se nell'ultimo anno molti ci hanno tenuto a dirmi se è cessa, se è brutta, se è grassa, se è troppo depressa Il che è vero, sono un po' troppo depressa E me l'avete fatto notare anche voi scrivendomi su Instagram Chiocciola, una polpetta per amica Però siccome mi sono rotta le palle di essere soltanto depressa Ho deciso di sorridere un attimo E devo dire che partecipare a Miss Curvissima mi sta facendo abbastanza sorridere Io vi invito a partecipare Questo concorso è stato ideato da una ragazza che si chiama Samantha Togni O Togni, io con gli accenti non è che ci vado tanto d'accordo Scusa Samantha Comunque Samantha E ha avuto una bellissima idea Cioè ideare un bel concorso in un mondo in cui per partecipare a concorsi Diventare Miss, fare lavori di questo genere Partecipare a shooting e qualsiasi altra cosa Tu devi almeno essere alto 1 metro e 75 Avergli addominali Oppure se sei femmina Non avere carne sulle ossa, in poche parole Invece noto che grazie a Samantha A Laura Brioschi Infatti ho partecipato alla Body Positive Catwalk per due volte E quindi saluto Laura che veramente mi ha aiutato Cioè a farmi sentire più a mio agio con me stessa Cioè anche se ho avuto tanti dubbi sul mio corpo Quando ho partecipato alla Body Positive Mi sono sentita veramente bella e a mio agio con me stessa E gli ho detto Ma che cazzo me ne frega del parere altrui? A me adesso se uno mi dice Sei grassa, sei una botola e qualsiasi altra cosa Non è che me ne importi tanto Anzi mi importa di più quando una persona mi dice Non sei più quella di prima Non fai più video di prima Non ci sei più su Youtube Ti vedo troppo triste Ti seguo su Instagram E sembra che ti muore un gatto al giorno E quello sì mi importa Perché se una persona ti dice Mi sembri tanto giù Mi sembri tanto smorta Me l'avete detto in tanti ultimamente Significa che c'è qualcosa che non va dentro di te Ad esempio la mia confusione sulla vita in generale La mia depressione che è andata ad incrementarsi col coronavirus E niente, i miei dubbi esistenziali sul futuro Però siccome sono sempre stata molto attivista Cioè mi ha mai fregato di niente Mi sono filata la roba nei denti come se niente fosse E ho promosso la ciccia Mi so detto non posso non partecipare a questa cosa Anche se probabilmente poi mi cagherò sotto Quando dovrò fare delle tappe dal vivo Mi scurvissi me è un concorso che prevede varie tappe Però a causa del coronavirus Adesso stiamo partecipando tutti da casa Per questo sono vestita così Perché ho fatto un video con un vestito elegante E un video in intimo con sto coso sopra Niente, poi tutti i video vanno inviati a Samantha E le persone devono scegliere Devono votare il numero della loro preferita Io sto facendo questo video oggi che Che giorno è oggi? E in teoria la prossima tappa sarà lunedì Voi andate nel profilo Instagram di Miss Curvissima Oppure andate nel mio Chiocciola una polpetta per amica E lì vi scriverò il mio numero di partecipazione Perché ad oggi ancora non lo so Lo saprò soltanto lunedì Ovvero il giorno in cui vedrete questo video Quindi praticamente oggi Cioè potete votare semplicemente Scrivendo nei commenti del video Il mio numero, il mio numero di appartenenza Ve lo dirò a breve Ripeto, seguitemi Chiocciola una polpetta per amica Su Instagram Così quando guardate questo video Sapete pure che numero so Anche se lo scriverò pure qua sotto nei commenti Perché mi dovete spammare Insomma, dovete votarmi Così finisco tipo in finale o non so cosa In realtà mi cago abbastanza sotto Cioè io quando devo fare delle cose per me stessa E cose importanti Che mi fanno venire troppa ansia Rinuncio sempre all'ultimo Però se io avessi un po' di supporto Da parte vostra Di persone che voglio bene Forse riuscirei A fare Questa cosa Sento l'ape E niente Voglio sta bene con me stessa di nuovo E partecipo a questo concorso Non tanto per vincere Quanto per darmi un'altra possibilità Per prendermi cura di me Per volermi bene un attimo Ecco Perché mi ero un po' dimenticata Di come se facesse Di come se sentisse A volesse bene Io posso soltanto consigliarvi Se state bene con voi stesse Anche perché oggi Ho visto su TV8 L'intervento di Laura Brioschi Che puntualmente Non fanno mai Parlare Cioè Quando le invitano dalle parti Non gli danno mai più di 10 secondi Per esprimere la sua opinione Quindi non ci ho capito niente Quello che ho capito Però è che ci sono Molti pregiudizi Quello che è apparso Che ho captato Percepito Da quel servizio È che continuiamo A discriminare le persone grasse Cioè Se tu hai 10 kg in più Della norma Pesi 10 kg in più Come nel mio caso Che in realtà saranno 15 o 17 Semplicemente Non mi peso da tipo 4 mesi E sto bene così Sinceramente Quando pesi un po' più Della norma La gente non è che ti chiede Come stai Non è che ti chiede Sei felice Ti chiedono subito Eh ma tu hai provato a dimagrire? Cioè Ma chi ti ha detto a te Che io voglio dimagrire? Oppure ti chiedono Beh ma se tu avessi l'opportunità Saresti più magra Ma chi ve lo dice? Cioè Se una persona Sta bene con se stessa Qual è il problema? Non so neanche io Bene a cosa Io stia andando incontro Cioè Non so come Procederà il concorso So soltanto che Io ho visto Martina In realtà anche Anna Una ragazza Che ho conosciuto La Body Positive Però in particolare Ho visto Martina Che ha vinto L'anno scorso È diventata Miscurvissima E niente È cambiata da così a così La storia che mi ha raccontato Insomma Si è dedicata Un po' Ha dedicato un po' Di tempo a se stessa E ha ritrovato La felicità Ha ritrovato il sorriso Ed io penso che Devo ripartire da qua Cioè da me Perché non L'ho ferma da troppo tempo Ecco E credo E credo Mi capiranno Ve si ama E se volete Votatemi Seguitemi su Instagram Per rimanere sempre Aggiornati Riguardo Il concorso Miscurvissima E seguite anche Miscurvissima su Instagram Perché è una bellissima Iniziativa E se c'è una taglia 44 Mostra la tua ciccia Non te ne vergogna Ve si ama Ciao Ciao